Finisce lo stato d'emergenza, ma questo non blocca il virus, lo sottolinea il governatore della campagna Vincenzo De Luca. Non sappiamo con quanti e quali varianti dovremo fare i conti nei prossimi mesi. Continuiamo ad usare in maniera permanente le mascherine, completiamo per quanto possibile la campagna di vaccinazione. Finisce lo stato d'emergenza, ma questo non ferma e non blocca il Covid. Noi non sappiamo con quante e quali varianti dovremo fare i conti nei prossimi mesi. Allora, la storia l'abbiamo già conosciuta. Abbiamo un abbassamento del picco durante l'estate, ma poi magari viene fuori una variante particolarmente aggressiva. Allora, veramente un invito con tutto il cuore ad essere estremamente prudenti. Basta l'uso permanente della mascherina, almeno questo. completiamo per quanto possibile la campagna di vaccinazione, ma almeno sull'uso della mascherina. Per l'amor di Dio, teniamola sempre, perché ripeto, avremo un rimescolamento sociale che può essere pericoloso.